Mauro Torassa, campionato over 35, circolo Luigi Rum, passano gli anni ma si arriva sempre in finale e allora vuol dire che insomma siete ancora bravi? Ci proviamo diciamo più che altro, sì no ci divertiamo, finché ci divertiamo va bene così, siamo riusciti a non arrivare in finale, speriamo bene, incrociamo le dita. È una finale di consolazione, una finale play out, il campionato nella stagione diciamo regolare non è andato benissimo però poi dopo in primavera vi siete risvegliati? Ma sì abbiamo avuto un po' di infortuni, c'è sempre i soliti problemi che magari penso che abbiano tutte le squadre, comunque noi magari un po' di più e quindi alla fine arrivare contati una cosa e l'altra poi le paghi. Una finale però insomma fa riscoprire sempre una qualche emozione? Vabbè certo, sempre finale è comunque, quindi sì va bene così. Circo Luigi Rum che ha voglia ancora di continuare, si diceva passano gli anni ma la voglia di giocare ancora non finisce? No no no, finché riusciamo proviamo ad andare avanti e poi prima o poi smetteremo anche noi però finché duriamo teniamo duro come si dice.